Vi faccio vedere come si trucca mia madre, tale madre tale figlia no? Allora cominciamo con la crema idratante e direi che partiamo molto bene Subito dopo passiamo al primer No mia madre non sa che cos'è un primer La mini primer si Poi prende il fondotinta e lo mette da parte Che serve il fondotinta? Poi prende il correttore e lo lancia proprio in aria Poi stende tutto con l'uccello Ovviamente si scherza Ora la parte fondamentale è le sopracciglia Le pettina con il pettinino dei baffi di mio padre E poi passiamo agli occhi Prende la palette e la rimette a posto Perché no c'era troppo casino Il mascara invece lo stende in questa maniera qui Effetto quasi naturale E infine rossetto vinaccio Steso in questa maniera Comprato nel 1989 E tadaaa No mia madre non si trucca La vostra